Egemonia di sinistra nelle scuole? Credo che nelle superiori ci sia senz'altro, non in tutte naturalmente, ma la mia esperienza di sindaco e mamma mi fa dire che il mondo della scuola così tanto neutrale non lo è. Non voglio parlare di cattivi maestri, ma questa è una situazione che esiste. A dichiararlo a lanza la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, in merito alla polemica per l'ipotesi di valutare un eventuale ascolto riservato per studenti e genitori dopo aver saputo che in alcune scuole della sua città le ordinanze da lei emesse vengono criticate. Ho già parlato al garante per i diritti dell'infanzia e dell'odolescenza, fa sapere la Cisint, delle segnalazioni che ho raccolto. Sarà poi lui a valutare e decidere se avviare questa iniziativa. Non sono mancate le reazioni da parte della politica nazionale e locale con la senatrice Roic che parla di stretta le libertà personali individuali e del vice capogruppo del PD Moretti che parla di nuove liste di proscrizione magari da pubblicare sui social.